L'undicesima giornata del Girone F di Sanreddi è dominata da due derby che promettono scintille. Per questioni ambientali, oltre che di classifica, la sfida dello Stadio dei Marsi tra Avezzano e L'Aquila. Ma non è da meno il match del Mariani-Pavone tra Pineto e Francavilla. Marsicani e Rosso-Blu arrivano al derby appaiati in classifica a soli due punti della zona play-off. Gli uomini di Giampaolo hanno ingranato la marcia giusta. 14 punti negli ultimi sei turni di campionato, frutto di quattro vittorie e due pareggi. La squadra di Battistini del canto suo sta andando oltre le difficoltà ambientali, lasciando fuori dallo spogliatoio le questioni societarie, che paiono andare verso la schiarita definitiva con il passaggio delle quote al nuovo presidente Fioravanti. Nell'altro match di cartello si affrontano due squadre che attraversano un momento positivo. Il Pineto di Amaulo ha inanellato sei risultati utili consecutivi, riportandosi a tiro della zona play-off e ad un solo punto di distanza dal Francavilla di Iervese, reduce da quattro risultati utili in fila. Il lotto delle abruzzesi d'alta classifica è chiuso dalla Vastese. Gli aragonesi di Colavitto hanno leggermente frenato la marcia pareggiando a Monte San Giusto, ma il terzo posto, a cinque punti dalla vetta occupata dal Matelica, domani opposto all'ostico Castelfidardo, autorizza i biancorossi a pensare in grande, a patto di superare l'Olimpia agnonese. Le note dolenti arrivano pensando a Virtus San Nicolò e Nero Stellati. I biancazzurri non riescono ad uscire da una crisi, oltre che di risultati, anche mentale. La squadra, al netto di troppi errori individuali e di reparto, non difetta di impegno e Mister Campanile sta provando in tutti i modi, anche cambiando modulo, di trovare il bandolo della Matassa. Una vittoria, anche fortunata, a Reganati aiuterebbe non solo la classifica, che costringe Terramani ad inseguire già la zona salvezza. Discorso diverso per i Nero Stellati, fanalino di coda ancora a secco di vittorie, sembra fantascienza una rinascita proprio domani a Pesaro contro la vicecapolista.